E' Inter Genoa, un saluto da Piero Gipardo e Beppe Bergomi. Attenzione al pallone dall'altra parte verso Quaresma, sto contro uno, poi invece sceglie il pallone dentro! Rubinio a vuoto, pallone che rimane in mezzo alla fine, ha toccato Ibrahimovic qui. Palla dentro, Rubinio in vantaggio su Adriano. Perché c'è Milito davanti ma c'è anche Sculli che si propone. Possibilità per Sculli, cross morbido verso Milito, Milito! Giulio Cesar! Ancora Maicon, Ibra, spara la porta, Ibra! Alto non di molto. Ecco Milito che fa salire Motta, poi un po' di confusione, il pallone buono per Milito, ancora Milito, Giulio Cesar! E poi Mesto! Buona l'apertura verso Mesto, Sculli dall'altra parte nel luogo. Il mercato con il lancio del contratto, occhio a destra, attraverso Clamorosa! Clamorosa di Mesto! Parte Balotelli, palla dentro, Ibra! Alto non di molto. Ecco Ibra, palla forte Ibrahimovic. Prova a passare, Maicon, deviazione, traversa! Motta, riesce a servire in qualche modo, Milito, Milito destro, Giulio Cesar! Balotelli dall'altra parte, Iuric, occhio perché Iuric è ammonito! E arriva il secondo giallo! Attenzione a Milito, Milito! Giulio Cesar! È una sfida continua! Avanza via Sanetti, i muscoli del capitano, il tocco verso Ibrahimovic, palla buona per Sanetti, dentro ancora Sanetti! Non trova della battuta sulla pressione di Piavi. La battuta del calcio di punizione, Giulio Cesar! Strepitoso! Nel tele di Lisce, 0-0! Una partita di straordinaria intensità! Finisce a 0-0 tra Inter e Genoa.